da quando lavoro in miti sento di aver portato un po diciamo di felicità sorriso non che non c'era ma di aver portato quel pizzico in più di sorriso e felicità mi chiamo mustafa sei e mi occupo della movimentazione della merce del controllo finito e miti detto francamente ad oggi mi trovo molto 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 bene sono molto soddisfatto di essere qua vedere un diciamo un tessuto dal greggio al finito è stata una cosa molto interessante per me anche diciamo il processo e capire tu cosa stai indossando per fare il meglio il mio lavoro secondo me ci vuole tanta pazienza gestione del tempo che è molto importante e etica del lavoro che secondo me fondamentale correttezza rispetto dell'ambiente lavorativo cercare sempre di lavorare con impegno e determinazione la reattività è molto importante perché ogni giorno comunque diverso ed è quello il bello secondo me nel mio lavoro quest'anno Grazie a tutti.